Bentornati in questo nuovo video, un po' diverso dal solito poiché non parliamo di Formula 1, bensì di calcio. Prima di cominciare mettete like a questo video e se non siete iscritti iscrivetevi e attivate la campanella, così non vi perderete i nuovi contenuti. Come avete letto dal titolo, oggi vi parlo dello straordinario lavoro che sta facendo Xavi. Xavi innanzitutto è stata una grande bandiera del Blaugrana, però il suo arrivo è stato molto criticato, perché è arrivato sulle spalle l'unica esperienza da allenatore in Qatar, allenando la sua ultima squadra nella quale ha giocato, l'Al Sad. Qualcuno comunque ha criticato questa mossa a parte del Barcellona, però i tifosi del Barcellona sono stati entusiasti dalla scelta, poiché appunto tornava uno che aveva fatto la storia del Barcellona che per anni ha alzato trofei importanti vestendo la maglia del Barça. Ma come si è arrivati a prendere Xavi? Diciamo che appunto il Barcellona negli ultimi anni ha vissuto e sta vivendo anche tuttora una situazione non proprio rosea dal punto di vista economico, sia perché negli ultimi anni ha fatto mosse di mercato sbagliate, dal punto di vista finanziario appunto, mosse di mercato sbagliate come l'acquisto per 30 milioni di Paco Alcacerra, i 34 milioni per Arda Turani, i 37 per Andre Gomez, il 40 per Paoligno che preso dal Wenzu Evergrande per 40 milioni e poi rivenduto per 42 milioni dopo solamente una stagione, senza dimenticarci sempre per la stessa cifra di Malcom che poi adesso è finito fuori dai radar, e sta ancora in giro all'Ozze San Pietroburgo se non erro, poi i 60 milioni di spesi per Pjanic più Arthur, più il cartone di Arthur che adesso Pjanic è finito in Turchia, ma soprattutto i 120 milioni di spesi per Antoine Griezmann per prelevare l'Atletico Madrid e tuttora adesso è in prestito dal Barcellona all'Atletico Madrid, i 135 milioni per Coutinho che era il grande fenomeno del Liverpool arrivato e ha fatto fatica, infatti mi sono andato sempre in prestito e tra l'altro nel famoso 8-2 del Bayern Monaco contro il Barcellona segnerà proprio continuo contro il Barcellona perché lui era in prestito al Bayern Monaco in quella circostanza. E poi soprattutto i 175 milioni per Ousmane Dembélé per un giocatore che arrivava dal Borussia Dortmund, che era successo il casino mediatico perché doveva presentarsi all'evento del Borussia Dortmund, ma poi non si è presentato, è scappato perché voleva andare a Barcellona e tutto quanto, e alla fine adesso è rotto, cioè comunque sta tornando a ingranare, ma fa fatica, per ora ha completamente perso il valore che aveva, adesso non vale 180 milioni, adesso se proprio a esagerare ne vale 40, proprio a esagerare. E poi c'è appunto il Barcellona dovuto gestire nello scorso gennaio la situazione contrattuale di Ousmane Dembélé che va in scadenza, però non si riesce a trovare l'accordo e quindi anche quella è un'altra problematica. Ma a incrementare questa situazione diciamo appunto di crisi finanziarie, problemi, mostre sbagliate di calcio mercato, quindi dal punto di vista finanziario, è stato l'impatto della pandemia, del Covid-19, poiché appunto tutti i club hanno subito gravi perdite, ma il Barcellona sommando le gravi perdite e le mostre di calcio mercato sbagliate, si è arrivati alla tragica, a svendere giocatori come Luis Suarez, che era un pilastro, era uno dei tre della MSN, che era Messi, Suarez, Neymar, Neymar si era andato al PSG, Suarez adesso è stato atletico, eppure Messi adesso se ne è andato, e Messi la scorso stessa se ne è andato, come ben sappiamo, se ne è andato al PSG, poiché dal punto di vista contrattuale il Barcellona non poteva permettersi di ingaggio di Messi, poiché appunto in Spagna ci sta questo tetto massimo del salary cap, e deve essere del 70%, e il Barcellona lo sforava notevolmente, e quindi ha dovuto spendere. E quindi diciamo anche se in realtà l'apice di questa crisi si è avuta quella sconfitta per 8-2 in Champions League, perché il Bayern Monaco ha umiliato il Barcellona nel suo Champions League 2019-2020, subito quella lì che è stata interrotta per la pandemia, e che lì è stata veramente, è stata partita secca, non è stata andata in ritorno, perché appunto con la pandemia hanno fatto partire secche. E quindi 8-2 è stato un risultato molto pesante, quindi si stava parlando di non conf... appunto che Koeman, l'allenatore del Barcellona, sulla sua riconferma era incerta, e alla fine, dopo che ha fallito miseramente il passaggio di turno in Champions League, nell'edizione in corso, ovvero che è finita alle spalle del Benfica, il Barça è andato appunto ai sorteggi di... è andata in Europa League, e questa cosa non accadeva da parecchio tempo, perché il Barcellona è sempre stata una delle grandi del calcio che conta, della competizione più importante d'Europa, della Coppa dei Campioni, della Champions League, quindi questo è stato la... e quindi diciamo, il Barcellona era disperato, e alla fine ha deciso di prendersi la dirigenza del Barcellona, così disperata, aveva bisogno in realtà, non di un allenatore vincente, non aveva bisogno di un Guardiola, che anche Guardiola avrebbe fatto bene a Barcellona, perché lui fa il bene del Barcellona, ma serviva proprio uno che amava Barcellona, Barcellona, ed è per questo che è stato preso Chavi, perché Chavi era... perché Chavi ha fatto... Chavi... il Barcellona aveva bisogno di tornare alle origini, di nuovo a puntare sulla... sulla Masia, sulla cantera del... sulla sua cantera, sui giovani prodotti... sui giovani che sono stati prodotti... i giovani che uscivano fuori appunto dalla primavera, perché la Masia è stata creata nel 79 da Cruif, e Cruif ha puntato nel... quando è stato allenatore al Barcellona, in un giovane centrocampista, che poi... che poi tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000 verrà in Italia, ovvero Pep Guardiola, Pep Guardiola poi è diventato colui che ha puntato su la Masia, anche lui, tirando fuori dalla Masia giocatori come Leo Messi, come Chavi, come un certo Puyol, un certo Don Andrassini Estra, un certo Sergi Roperto, Giordi Alba, Piquet, e... 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 Pedro Rodriguez, che è ex Chelsea, ex Barcellona, e lo stesso ex Roma, e che adesso gioca nella Lazio. E... quindi questo, e quindi c'era bisogno di tornare alle origini. E Chavi ha fatto così, infatti, la prima volta, infatti, Chavi cosa ha fatto? Ha deciso di dare minutaggio ai prodotti, ai giovani della Masia, come il terzo sinistro Alex Baldé, come i centrocampisti Pedri, Gavi, il prodotto di Pedri, Pedri è strepitoso, Pedri è il futuro nazionale spagnola, è... sarà uno dei centrocampisti più forti al mondo, sarà il centrocampista più forte al mondo, perché è 2003, e dominerà a centrocampo per i prossimi anni. Oltre a Pedri, come ho detto, ci stanno Gavi, Nico Gonzalez, Ricky Pig, Puig, che in realtà già... si conosce che un po' era andato un po' in giro, un po'... però adesso sta trovando continuità anche al Barcellona, anche se è difficile a Barcellona giocare per alcuni di questi giovedoli, poiché comunque l'immediana, oltre all'esperienza di Sergio Busquets, c'è un centrocampista straordinario, che è Frank De Jong, un altro grande investimento è il Barcellona, 80 milioni, circa 80 milioni, ma Frank De Jong ne vale, Frank De Jong è un giocatore eccezionale, quindi comunque è difficile che tutti questi giocatori trovino continuità dal punto di vista di giocare ogni partita, ma stanno giocando, cioè Nico Gonzalez, nell'ultima partita con Levante ha giocato l'isolare, Gavi è entrato al posto di... Gavi è entrato al posto di Coso, di De Jong, quindi giocano questi giocatori, e poi in realtà, gli altri giocatori che comunque hanno... c'è un altro giocatore che comunque è stato convocato ma ha giocato poco, è Alvaro Sanz, ma anche lui è un centrocampista anche molto talentuoso, e poi per quello che riguarda le ali offensive ci stanno, oltre al già celebre Antisufati, che ormai è, si è preso in realtà la numero 10 di Messi, si ha il... si hanno già due ali che vengono considerati il futuro del Barça, Abdes Ahmad, Ezzal Zuli, e Iles Akomak, oltre... e poi abbiamo altri due ali che hanno meno fama, ma che sono anche molto forti, ovvero Fernand Jutkla, e Estanis Petrola. Gioco che in realtà questo processo fatto da Xavi ha continuità grazie al commissario tecnico della Spagna, ovvero Luis Enrique, anche lui, un altro innamorato di Barcellona, perché tutti hanno criticato Luis Enrique, lo scorso europeo, perché diceva noi avevamo convocato i giocatori del Real Madrid, l'avevano lasciato accanto a Sergio Ramos, l'avevano lasciato tutti, Daniel Bahl, tutti i giocatori del... tutti i giocatori del Real Madrid. Si è portato sui giocatori, giovani, della cantina del Barcellona, giocatori del Bilbao, perché anche... perché una delle cantare che vi è sottolineata tante è anche quella del Bilbao, che magari, se vi interessa, ve ne parlo in un altro video, perché anche quella merita un video a sé, e... 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 quindi... cioè... la Spagna ha giocato un calcio fantastico, e... meritava di vincere l'Europeo, attenzione, da italiano dico che... 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 la Spagna meritava di vincere l'Europeo, e molti mi diranno, ma cosa stai dicendo? L'Italia contro la Spagna è passata perché si è... si è... perché si è decisa ai rigori, perché la Spagna per 120 minuti ha dominato l'Italia e ha giocato a calcio, ha giocato a calcio, cioè hanno fatto un calcio spumeggiante, Pedri... Pedri... cioè Pedri... bisogna inchinarsi a un giocatore come Pedri, Pedri è un fenomeno, e... e quindi... anche questo ha aiutato molto Xavi, già... alcuni erano già appunto già nel giro nazionale, però Xavi, sapendo che appunto questo processo appunto di Luis Liga era iniziato... quando è ritornato dalla... dalla... alla guida nazionale di Spagna, perché lui si è dovuto fermare a causa appunto della malattia della figlia, che poi la figlia è morta, figlia di nove anni, quindi... e quindi poi... durante l'Europeo ha buttato nella mischia tutti questi nuovi giovani, delle... delle giovanili, delle diverse squadre, e... e poi Xavi, vedendo che comunque Luis Liga apprezzava i giovani, li ha buttati tutti nella mischia, poi è ovvio, è ovvio che... magari... tutti questi giovani poi diventano fenomeni, però... già il fatto che tu hai... cioè, il Barcellona ha a Centranfo, Gavi che... Pedri che è 2003, Gavi che è 2004, Nico Kondalski e pure lui è 2003-2004, cioè, nel senso, significa che... c'è un Centranfo garantito per i prossimi dieci anni, cioè, è questa la questione, però tornando a... il Barcellona di Xavi, cioè, quindi tornando in notte... quando arrivato Xavi, il Barcellona faceva fatica a ingannare, perché era un... perché... non ha... la quella squadra era una costruita... è stata una squadra costruita senza un metodo, infatti, è arrivato il mercato di gennaio, sono arrivati quattro giocatori che adesso sono fondamentali per Xavi. Un certo Pien... America Bameyang mi sfrattava dall'Arsenal, ma che è un giocatore eccezionale, un giocatore eccezionale che serviva al Barcellona, un attaccante, perché purtroppo, a causa del fatto che Aguero si è ritirato per i problemi al cuore che ha, avevano bisogno di un altro attaccante, perché non potevano giocare solo con Luke de Jong o Memphis Depay, che poi... e quindi è arrivato, è arrivato, appunto, poi è arrivato. Un altro che chi ha seguito la mia rubrica sul blog, appunto il pallone di Pietro, sui giovani talenti, lo conosce, Fernand Torres. Sa che io lo adoro, quel giocatore Fernand Torres. tra virgolette è uno dei miei tanti pupilli, perché quelli di cui è uno dei miei pupilli di quelli che ho parlato, di quei giocatori di cui ho parlato nel blog, e Fernand Torres si è dimostrato sempre che è stato il Manchester City è esploso, perché Guardiola era pazzo, era pazzo di Fernand Torres. Poi, in Nations League, incontro d'Italia, due gol, due gol, due gol ha fatto, doppietta, doppietta Fernand Torres. E molte hanno criticato, lo stesso Koeman, il sanatore del Barcellona, appunto, ha criticato il fatto che sono stati spesi 55 milioni, 55 milioni per far arrivare Fernand Torres a Barcellona. Cioè, ma siamo così sicuri che Barcellona non poteva tenere Messi? Io, tra virgolette, rispondo a questa cosa che ha detto Koeman. A quanto pare, Barcellona non poteva non tenere, non poteva tenere Messi, perché c'era un tetto, quindi, in Barcellona si è praticamente smantellato, perché tutti i giorni della Masia prendono, cioè, tutti messi insieme prendono lo stipendio di Messi, tra poco, lo stipendio che si poteva messo in Barcellona. Quindi, quella è la questione. E poi, Fernand Torres, cioè, oggettivamente, non perché sono di parte, perché adoro Fernand Torres, ma 55 milioni per Fernand Torres, sono anche pochi, perché Fernand Torres, un settore eccezionale, l'abbiamo visto qua, nelle due partite di Europa League contro Napoli, ma in Spagna, cioè, Fernand Torres, eh, cioè, la Spagna, Fernand Torres, è un gioco eccezionale, cioè, Fernand Torres, fa divertire, cioè, vedere le partite del Barcellona adesso, vedere una partita del Barcellona di Xavi, e vedere una partita del Barcellona, se solo uno si vede, adesso una partita del Barcellona, rimane, estrefatto, per come gioca il Barcellona, per come, il cambiamento drastico che ha fatto, se noi prendiamo un'altra qualsiasi partita del Koeman, un'altra partita di, ehm, del Barcellona, negli ultimi due anni, non è, non è, non è, non è, non era calcio, non era calcio, cioè, veramente sembrava un gioco peggiore del, di quello che criticano molti, del sciolismo di Simeone, tutti dietro, ma il Barcellona è una vera identità, c'è Viglia l'ha ritata, grazie anche a, se ha questi due innessi, gli altri due che sono arrivati sono stati due ritorni, in realtà, Adama Traoré, che era cresciuto nei giovanili del, del Barcellona, anche lui è un fenomeno che corre, 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 che non si ferma, cioè, per fermarlo, gli devi sparare, cioè, nel senso, eh, cioè, devi fare per forza fallo, cioè, devi fare fallo per fermarlo, perché non lo riesce a fermare Adama Traoré, e poi l'altro ritorno è Dani Alves, che, come come diarsino sinistro, uno che ha vinto tanto, molti mi diranno, ma come fai a parlare, a avere tutte queste certezze sul Barcellona e Cevi, mi passano due partite, mi sono passato, io, ho avuto conferma dell'ottimo lavoro di Safranio e Cevi, mediante due partite, una, che è il ritorno di Europa League contro il mio Napoli, contro il mio Napoli, perché, quella partita, il Barcellona l'ha vinta 4 a 2, ma oggettivamente non meritava di vincere 4 a 2, meritava di vincere 6, 7, anche 8 a 2, perché il Barcellona ha giocato un calcio sublime, cioè, Pedri, mi è sembrato, Iniesta, cioè, giocava con una, cioè, un 2003 che giocava con una leggerezza, paurosa, cioè, cioè, ogni volta che toccava palla, Cevi durante la partita, cioè, io mi inchinavo, cioè, non Cevi, scusate, Pedri, io mi inchinavo, nel senso, rimanevo estrefatto, perché, ma com'è possibile, un 2003 che gioca così, cioè, nel senso, e, e, e quindi quello, e infatti, l'ha preparata perfetta da Cevi, e poi, lì, il Napoli, l'ha, non poteva fare nulla, perché se il Barcellona si preparava una partita del genere, che tra quelli che il Barcellona, come ho detto, doveva stravincere, non doveva vincere 4, cioè, 4 a 2, è stato un risultato bugiardo, perché come ho detto, doveva finire 5 a 2, 6 a 2, doveva finire 5 a 2, 6 a 2, 7 a 2, anche 8 a 2, non mi sarei stupito, se la partita fosse finita 8 a 2, perché? Perciò l'ha giocata a calcio, e la seconda partita, è stato, è stato, il classico, è il classico, la partita più importante in Spagna, Real Madrid, Barcellona, al Santiago Bernabéu, tutto pieno, tutta la persona ce l'aveva il Barcellona, perché comunque, Real Madrid, ormai sta dominando la Liga, quindi, non era, Ancelotti, alla fine, era abbastanza tranquillo, e Ciavi tira fuori, il cognome al cilindro, e dopo, e dopo i 90 minuti, Barcellona 4, Real Madrid 0, questa, questa è stata la conferma, cioè, vinci i 4, cioè, vedere il Barcellona che dominava un classico, non si vedeva dai tempi in cui c'erano messi, i tempi d'oro del Barça, quindi, questo è un grandissimo segnale, e chiudo il video, facendo una, adesso, facendovi vedere, sulla mia lavagna tattica, in breve, il modo di giocare di Ciavi. Adesso, la costruzione del Barcellona di Ciavi, sulla lavagna tattica, Barcellona, in questo caso, saranno, quelli col colore giallo, vediamo, innanzitutto, il numero 8, con il possesso di palla, e una marcatura, appunto, da parte dei difensori, dei 4 difensori, sui 3 attaccanti, e l'inserimento del numero 6, del numero 7, e il numero 8, può fare, può fare due cose, o, la dà il numero 6, e poi, avanza, e il numero 6, gliela ridà, però, poi, qua si crea, un, un piccolo problema, perché il 9, deve, scappare qui, e, automaticamente, il 10, deve entrare, entrare in area, quindi, fa così, il terzino, lo va a marcare, si inserisce il 10, palla retratta per il 10, nel frattempo, si sono inseriti il 6, l'11, il 7 si allarga, nel frattempo, potrebbero salire, i terzini, anche se, sono costretti, a, a rimanere dietro, poiché, appunto, ci sono, il 9 e l'11 avversario, quindi, sono costretti a rimanere dietro, e, il centravanti avversario, che è tra i due centrali, quindi, la situazione, è la seguente, allora, il 7 prova a salire, andare su, a creare un'azione sul secondo palo, il 10 comunque ci prova, però, arriva il difensore a chiudere, e quindi, qui, si crea una, situazione di, in pratica, 3, 3, avversari contro 2, quindi, cosa succede? L'8, deve risalire, anche lui salire, e quindi, si crea, qui per esempio, e quindi, l'11, entra in aria, marcato dal difensore, il 9 si stacca, dalla marcatura dei centrali, e però, però, viene, appunto, viene ripreso dall'altro 6, e quindi il 10, cosa fa? La dà arretrata, per l'8, che prova a calciare, anche se verrà mulata, e quindi, comunque, l'azione finisce, ipoticamente, con un calcio d'angolo, e quindi, questo per quello che riguarda la fase, offensiva, invece, per quella difensiva, cosa succede? Appunto, il, il 6, il 7, l'8, che sono appunto i centrocampisti, salgono, gli altri, gli altri, gli altri, succede appunto la seguente cosa, che il terzino sale, il, il terzino avversario sale, il 9, è costretto comunque, a tornare indietro, a marcarselo, perché, se no, si crea superiorità numerica, in questa fascia, e quindi, qui cosa succede? il 7 e l'8, ci sono, i due, ci sono, i, 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 i centrali, no, e ci sta, ci sta anche l'altro centrocampista, che sale, quindi, si crea, qui sulla fascia, appunto, l'11 si potrebbe inserire, su una palla lunga, quindi l'8 potrebbe fare così, tranquillamente, scavalcare, c'è l'altro campo, arriva l'11, ma qui, automatamente, ci sta il, il numero 5, che, appunto, ferma, quindi l'11 poi è costretto, o andare l'uno contro uno, o aspettare l'inserimento, appunto, degli altri avversari, perché il 10 comunque sta in mezzo, ai due difensori, aspettare, appunto, il 9 sul secondo palo, oppure il terzo che sale, ma comunque è sempre accompagnato, dall'altro avversario, e invece ci sono, sa, prova a salire anche il 2, vedendo, però, cosa succede, qui il 6, si marca il 2, quindi rimangono, in realtà, e quindi, qui c'è il, e qui ci sta, l'unica soluzione, è che si inserisca, appunto, il 7, poiché appunto, in modo arretrato, quindi l'11 la dà, ma, e qui, il 7 potrebbe tranquillamente calciare, però, esce fuori il 4, il 7 quindi è costretto a, o, appunto, tornare indietro, oppure, a ripassarla all'11, però all'11, o, si ritorna alla situazione precedente, quindi in realtà, Barcellona si mostra molto compatto, dal punto di vista difensivo, e quando recupera palla, fa la seguente cosa, che, appunto, il terzino, il difensore che recupera palla, escono palla al piede, ci sta qua il numero 7, 1, 2, ci sta il 6, qua, sale l'8, 1, 2, nel frattempo i difensori cercano di tornare in contropiede, l'11 a campo aperto, contro il 3, è un 2 contro 2, l'11 la mette in mezzo, magari devi dare il numero 3, e il 10 ce la butta dentro. e il 10 ce la butta dentro.